Dalle sterminate foreste milanesi arriva il leggendario Babbala che molti anni fa salvò un ragazzino da un grave pericolo e si legò inesorabilmente a lui per proteggerlo fino a farlo diventare un ragazzo idiota da quel giorno divennero Babbala e il ragazzo idiota come ogni mattina il ragazzo idiota aspetta l'autobus per la scuola porca miseria questo autobus non arriva mai uffa anche oggi andrò a piedi ciao ragazzi idiota sono uno sconosciuto la vuoi una caramella? vi raccomando idiota non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti si accetto perdivo missione compiuta Busto sono subito da te bravo sconosciuto ti aspetto con Ansel gaspiterina mi hanno rubato la vettura cosa è successo? le sei d'aiuto? no è che stavo rapendo questo ragazzo qua e mi hanno rubato la vettura oh cavolo qui girano delle gang vuole un passaggio? no grazie faccio da solo mi scusi mi sa dire dov'è via del rifugio di Busto Arsizio? ragazzo ignota ti proteggo e scusi prima di lanciarmi il macigno non la vuole una caramella? oh si grazie sconosciuto babbala non si dorme sugli sconosciuti non te l'ha detto la mamma? vabbè io vado a scuola ciao fatti in gula se l'ha data glata grazie a tutti grazie a tutti